ciao buongiorno a tutti buongiorno genesi allora eccoci qua per un altro piccolo circuito su gluteo e l'ho chiamato glutei alti e sodi allora che cosa andiamo a lavorare i primi tre esercizi in piedi a fondo retro estensione squat con apertura e chiusura e un affondo laterale e poi a terra un bridge ponte e poi un kickback mi raccomando l'importante sempre riscaldare l'articolazione e un piccolo diciamo riscaldamento di 10 minuti ok l'importante è questo prima di tutto ok iniziamo che ne dite ci siamo siamo pronti allora a fondo retro estensione mi raccomando partenza via va scendo mi raccomando andiamo a fare bene l'affondo l'affondo è questo vado ad affrontare la gamba retro estensione la gamba frontale sta a 90 gradi il petto non sta in avanti ma leggermente in verticale e mai superare la punta del ginocchio ok ancora giù vai scendo vai l'ultimo e mollo apertura e chiusura e squat ok da qua andiamo a metterci apertura delle gambe con le nostre spalle ok scendo apro chiudo apro chiudo apro chiudo e apro e apro ancora scendiamo via ancora scendiamo di nuovo mi raccomando anche qua importante lo squat ok scendo 90 gradi anche qui non devo andare in avanti schiena dritto porto indietro il gluteo apertura delle spalle ok fermi e salvo ok a fondo laterale a fondo laterale apertura delle gambe con le nostre spalle scendiamo allungo ok scendo gamba in estensione sinistra e andiamo sulla gamba estensione destra ok la gamba sinistra vai in affondo e salgo mi raccomando molto importante anche qua ok a terra bridge ponte mi raccomando schiena terra braccia lungo il corpo vai su salgo vai su salgo e scendo via su 1 2 vai ancora 3 via su 4 5 6 7 8 9 mi raccomando mentre salgo vado a chiudo vado a chiudere gluteo vado a chiudere gluteo con trago ok l'addome anche qua va a lavorare le braccia sono lungo il corpo ok mentre scende vado ad appoggiare vertebra dopo vertebra fino a toccare il lombare a terra vai su salgo e scendo via di nuovo inspiro e fuori l'aria via di nuovo vai l'ultimo e lascio ok ultimo esercizio kickback gommini a terra apertura delle ginocchia come le nostre spalle su salgo e scendo mentre scendo mi raccomando vado alla stessa altezza del ginocchio opposto saliamo 90 gradi la plantare sta a martello salendo andiamo a lavorare il gran gluteo e scendo via su 10 9 mi raccomando l'addome ok sempre ben retrato che lavora inspiro e fuori l'aria tipo un'esplosione su spinta vai ancora 8 7 6 5 4 vai 3 ancora 2 vai l'ultimo cambio via dall'altro lato sesso identico lavoro mi raccomando ok da qua apertura gomme di ben saldi le spalle sono in linea con le braccia sono in linea con le spalle ok mi raccomando addome ben retrato mi raccomando anche qua su saliamo sentiamo lavorare il gran gluteo fuori l'aria e scendo via su 1 2 3 4 5 il ginocchio non tocca mai a terra rimane sempre sollevato ok mi raccomando schiena dritta vai ancora vai 3 ancora 2 vai l'ultimo e lascia ok ok ragazzi questi 5 esercizi le andremo a ripetere per 6 volte ok ogni fine del quinto esercizio 10 secondi di recupero e andiamo a riprenderlo ok grazie e alla prossima